Ehi, lo so, si si lo so che vi sentite strani, lo so che trovate che le mie intro siano strane e questa è l'intro del video, si, siete già nel video, certo, non avete saltato un pezzo, non siete andati avanti per sbaglio, questa è l'intro ed è strana. Nello scorso video vi ho fatto vedere la palestra, ok? Quindi in quest'intro del video vi voglio far vedere che ho rifatto tutto un pezzo, tutta la parte interna della palestra perché non mi soddisfava e ho visto che non soddisfava neanche alcuni di voi. Quindi teletrasportiamoci subito là, guardate il teletrasporto funziona a meraviglia e so che anche l'avete apprezzato, il che mi fa piacere. Cosa è cambiato? Esternamente nulla perché era già completa, il parkour non lo so ancora fare. Ma andando di sotto ragazzi, questo è ciò che troveremo una volta entrati. Ho pensato di rifare tutta la parte della palestra interna, tranne la stanza privata del capopalestra perché tanto è la mia stanza e non interessa a nessuno, quindi appena entrati trovate una sorta di magazzino di lapidi. Dopodiché l'ingresso ospiti porta a un simpatico labirinto fatto da queste pedane che ti muovono, come vedete, e tu devi praticamente trovare, a seconda dei bivi che prendi, la scelta giusta per trovare la strada giusta che ti porterà. Ma infine, ho sbagliato anch'io che l'ho costruito, non mi ricordo, ti porterà all'ascensore. Una volta sceso all'ascensore c'è una nuova stanza degli ospiti, un pochino più piccola, ma ragazzi ciò che ho rifatto è l'arena. Perché era troppo piccola, non vi piaceva, non soddisfava neanche me, dovevo aggiungere i dettagli. Ho detto, sai che c'è? Adesso distruggo tutto e la rifacciamo da capo. Ragazzi, questa è l'arena della palestra. Dai, adesso è carina, il campo è davvero enorme, tutto ciò è sottoterra in una camera oscura, quindi pensate quanto fottutamente grosso tutto ciò. Ed è solamente la parte finale, la parte sotterrata della palestra che è divisa in tre zone, mio Dio quanto ho lavorato. Mi ero triggerato l'altra volta perché, appunto, mancando i dettagli sembrava che non mi fossi dedicato. In realtà ci ho dedicato molto tempo, ma avevo perso un po' l'ispirazione. Poi mi è venuta e ne è uscito questo. Quindi il nostro scheletro nella tomba, nella sua bara, è l'unica cosa rimasta intatta praticamente, o quasi, ha aperto ancora un po' di più la bara, come vedete adesso è aperta in obliquo, e le sue ossa sono diffuse nell'arena, come vedete, queste potrebbero essere costole, parti di gamba, quindi tipo una tibia, cose così, e fanno una sorta di guscio che abbraccia questa arena, una pokeball fatta di materiali inquietanti, degli spiriti che escono dal centro e che vanno a incanalarsi in questa fiaccola. La fiaccola è tenuta in mano dall'altro braccio dello scheletro, uno esce dalla bara e fa da ascensore, fa da ingresso, l'altro sorregge con solo tre dita perché è strano, non è umano, sorregge questa fiaccola, come vedete, che brucia, nella quale confluiscono gli spiriti e quindi dalla quale escono i fantasmi, che spettralmente faranno da spettatori. Come vedete ho dettagliato tutto, ho fatto crescere delle foglie, e al posto del pubblico ci sono lapidi ovunque, perché il pubblico, ragazzi, è morto, è la palestra dei mostri, quindi sono tutti fantasmi. Le lapidi sono anche sul tetto, sono ovunque, ragazzi, è un casino incredibile. E questo sarà il mio lato, ragazzi, tra l'altro dalle ossa penzolano anche dei lampadari per illuminare tutto. Inoltre ci sono delle candele qui e là, poste in maniera molto disordinata, perché i fantasmi sono birichini e tendono a spostarmi le cose. Bene, ragazzi, questa è l'arena definitiva della palestra, spero che vi piaccia, magari aggiungerò altri dettagli, non lo so, però in realtà mi soddisfa molto, quindi spero che siate contenti di questa forma finale della palestra. E se non è finale, è quasi finale. Ah, per tornare a casa non devi rifare il labirinto, perché basta che prendi questa strada, guardate quanto sono stato previdente, ti porta subito all'uscita, top. E visto che questa era solo l'intro del video, è tutta un intro sta cosa, io ora mi piazzo qui, mi giro, faccio così, metto l'inf8, e ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Pixelmon GX. Dunque, dunque, ragazzi, vi devo dire un paio di cose. La prima, ve l'ho fatto vedere con uno screenshot veloce, ma ho trovato un'altra Master Ball, è la decima della mia serie e ne ho otto ore in totale. La seconda cosa che vi voglio dire, visto che oggi mi vorrei dedicare, vorrei iniziare insieme a voi l'allenamento intensivo per portare tutti i membri della palestra al 70 ed essere pronto per il grande lancio, perché ragazzi, voi non lo sapete, ma stanno per succedere cose. Diciamo che vi devo dare una brutta notizia e una buona notizia. La brutta notizia è che settimana prossima non ci sarà più la Pixelmon GX, ma, hey, fermi, la serie non finirà, ragazzi, non finirà, ma si rinnoverà, diventerà qualcosa di nuovo, non ci sarà alcun reboot, ci sarà una seconda stagione ricca di novità, stiamo preparando e lavorando sotto banco a qualcosa. Non vi spoilerò ancora tutto, perché lo scoprirete nel corso della settimana, ma ci stiamo lavorando e uno degli obiettivi è finire le palestre in modo da lanciarle. E per farlo, ragazzi, devo allenare i miei Pokémon. Ora, state vedendo che qui con me abbiamo uno Snover, un Gastly e un Sandygast. Sono i tre definitivi, tutti gli altri li ho cestinati. Lo Snover è di natura Adamant, il Gastly è di natura Timid e il Sandygast è di natura Bold. Dovrebbero essere tutti grossi, forse uno era enorme. Beh, comunque hanno anche delle dimensioni non piccole, quantomeno, quindi ci sta come cosa. E le nature, non so se sono proprio le migliori, però so che sono tutte e tre buone. Magari, forse quella di Gastly è particolarmente buona, però sapete che non me ne intendo. Ho seguito un po' di vostri consigli e non sono stato lì a morirci dietro, perché sono dieci Pokémon per la palestra. Ma credo che siano delle buone nature su cui possiamo lavorare. Quindi tutti i Pokémon ne allineiamo 5 alla volta, anche se Darkrai è già al 70, quindi non va allenato. Tutti i Pokémon saranno dotati di fortu nuovo. Como farà da sfondamento? Abbiamo il Condividi XP attivato e quindi, ragazzi, diamoci da fare. Come al solito, spero di trovare molto presto cose tipo Megaboss, Hydre, Gondrampa, magari. Cose che mi daranno molti livelli, anche se già così, per dire, Tyrant va al livello 8. Sì, da qui al 70 ce ne vuole, ragazzi. Però comunque è un inizio. Ma ciao, splendidissimo Rapidash. No, non ti devo catturare. Perché sto facendo questa cappellata? Ti devo uccidere. Perché ho bisogno dei tuoi punticini esperienza. Tac, grazie mille. Arbok. Eh, che ricordi, Arbok, eh? Nel tuo caso non ti devo catturare, ma dobbiamo farci un po' di esperienza. Allora, sì, tu impara Pestone. Ragazzi, ve lo dico subito. Non presterò particolare attenzione alle mosse ora. Ovviamente, un minimo sì. Ma una volta che saranno allenati al 70 andremo a vedere, valutare tutte le mosse in modo da adattare anche i moveset. Quindi non lo faccio sin da subito, ma poi ci occuperemo anche di quello. Deve essere una squadra, non dico super competitiva, perché sapete che a me non piace giocare competitivo. Non sono neanche capace. Mi piacciono più altri aspetti del mondo Pokémon. L'avventura, il collezionismo e queste cose. Però cercherò e sto cercando di mettere su una squadra che possa affrontare vari team diversi. Infatti copre abbastanza tipi per questo motivo. Ragazzi, Ghastly si sta evolvendo. Abbiamo anche la nostra prima evoluzione. Ghastly diventerà un bellissimo Haunter. Per l'evoluzione poi in Gengar dovremo fare lo scambio. Quindi avrò bisogno dell'aiuto di qualcuno. Comunque, intanto, benvenuto Haunter. Che top quando iniziano a piovere i Mega Pokémon. Che come sapete se ne compare uno, compare sempre un altro e poi un altro ancora. Quindi, intanto Blaziken... Blaziken sei uno stronzetto però, eh. Che bello! Oltre che mi ha battuto come oh e che voglio solo ritirarmi, è pure crashata la lotta. Vedete, non mi dà risposte. Kick, spazio, Eren, Blaze, ciao ciao me stesso. Ragazzi, Snoover anche si sta evolvendo mentre soffoca nella roccia. Oh, ragazzi, avremo uno dei due Pokémon della palestra che si potrà mega evolvere. Perché, raga, Snoover diventa Abomasnow e continua a soffocare nella roccia. Cioè, è gigantesco, eh. Che figo. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa seconda parte dell'episodio già iniziato della Pixelmon GX. Faceva strano riprendere così a caso perché, ragazzi, noterete dai livelli dei Pokémon che è passato più tempo dal previsto. Infatti, sto registrando questa clip esattamente il giorno dopo e, tra un giorno e l'altro, mi sono dedicato a un allenamento, che dire, intensivo. Tra l'altro, bentornati divanetti miei. Mi spiace di non aver registrato neanche un pezzettino. Salve Genesect che ha spawnato chissà quando. Andiamo ad ucciderlo, sennò resterà lì per sempre. Tanto l'abbiamo già catturato. Comunque, stavo dicendo, mi dispiace se non ho ottenuto altre clip, diciamo, intermedie di questo allenamento. Magari non so neanche se vi interessava, sinceramente, ragazzi. Magari non vi interessava proprio. Fatto sta, nel mentre noterete che anche qui è cambiata un po' di roba, ma non voglio spoilerare niente, tra una parte di registrazione e l'altra, c'è stata una riunione con tutti i membri della Pixelmon perché stiamo parlando di progetti grossissimi, ragazzi. La novità più grossa dell'intera serie. Vi ho già spoilerato qualcosina nella prima parte del video. Non voglio ancora andare oltre, ma, raga, dovete iniziare ad avere hype. Nel mentre si chiacchierava e si è dilungata la riunione, io ho portato avanti gli allenamenti e poi, semplicemente, durante la serata, li ho portati a termine. È stata una rasciata devastante, ma, ragazzi, ora tutta la squadra è a livello 70. Quindi ve li faccio vedere tutti quanti. Abbiamo Age Slash a livello 70, abbiamo Samuroth a livello 70, abbiamo Explode Shiny a livello 70, Tiflusion a livello 70 e anche Abomasnow a livello 70. Oh, minchia, Abomasnow quanto è alto rispetto agli altri. Perché abbiamo Darkrai a livello 70 ed era già a livello 70, quindi nessuna novità. Palosand a livello 70. Abbiamo Rotom a livello 70, promette essere davvero una gran bestiaccia. Il bellissimo Tyrantrum, anche lui gigantesco, ragazzi, però ci sta perché è un Tyrannosaurus Rex, ci sta. Tra l'altro, Tyrantrum ha degli attacchi che tolgono davvero un sacco, davvero bestiale. E poi, infine, Gengar. Per avere Gengar ho dovuto fare l'evoluzione con lo scambio, ringrazio Tech che me l'ha scambiato al volo durante la riunione. E siamo riusciti in questo modo ad avere anche lui. Sono davvero bellissimi. Ora, ragazzi, ci manca tutta una grossa parte che potremmo fare nella prossima puntata. E sarà semplicemente il moveset. Quindi qui potete anche entrare in gioco voi. Se volete, nei commenti, suggeritemi dei moveset adatti alle nature dei Pokémon, che già vi ho mostrato, nel corso degli episodi. E se volete suggerirmi qualche moveset, fatelo pure. Terrò conto un po' dei suggerimenti. Quindi, calcolate che per il momento abbiamo già, chi ne so, dei moveset un attimo evoluti rispetto all'inizio. Per esempio, lui ha terremoto, sgranocche, dragartiglie e zuccata. È un po' ignorante come moveset, forse. E non è rifinito. Quindi voglio andarmi a studiare tutte le mosse più adatte. E poi cercare di insegnargliele. Se possiamo, abbiamo il ricordo a mosse, l'insegna a mosse, abbiamo qualche MT nelle cesse. Quindi sicuramente qualcosa possiamo fare. Fatemi sapere un po' qualche vostro suggerimento, così sistemiamo i moveset. E per il resto, ragazzi, abbiamo visto la palestra. Abbiamo visto il team. Siamo praticamente pronti ad iniziare, ad avviare la nostra palestra. Finalmente, le sfide stanno per cominciare. E io direi proprio di finire, diciamo, la nostra puntata dalla palestra. Tra l'altro, non mi ricordo già più come si fa. Ok, ce l'ho fatta in realtà, ottimo. Ci mettiamo già nella nostra postazione, un po' come se fossimo pronti alle sfide che verranno. E ragazzi, per questa puntata dedicata alla palestra è tutto. Spero che vi abbia fatto piacere, spero che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, soprattutto i consigli che vi ho chiesto. Mi spiace di aver tagliato tutto questo po' di roba, però capitemi. Non potevo registrare durante la riunione, non sarebbe stato carino. Non ho solamente approfittato mentre si chiacchierava e si parlava di progetti futuri per allenare Pokémon. Tanto, allenare Pokémon non ci voleva niente. Abbiamo usato Commo come sfondamento. Quindi è stato abbastanza easy. Detto ciò, ragazzi, noi ci salutiamo. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti! Ciao a tutti!